Infine la pace, la pace, la pace e le migliaia di morti civili e le migliaia di bambini mutilate per i quali in qualche caso a Gaza si sono fatti interventi chirurgici senza anestesia, la pace. In una parte del mondo nella quale viene impedita anche la vaccinazione per i neonati e per i bambini rispetto alla poliomielite, al tifo. Bisogna perdere mesi per avere la possibilità per vaccinare qualche migliaia di bambini. La pace. Siamo diventati tutti cinici. L'Occidente è narcotizzato. Quando vi sono oltre 40.000 morti a cui si aggiungono i morti del Libano, beh, il 90% di questi morti non sono terroristi, sono esseri umani. Quante volte mi è capitato di sentire Israele e la democrazia difende la democrazia? No. La democrazia non è fatta solo di voti ogni cinque anni. La democrazia è innanzitutto la difesa di valori umani fondamentali. Di valori umani fondamentali. Altrimenti la democrazia è un guscio vuoto. La democrazia non prevede, non contempla il genocidio. La democrazia prevede anche la rappresaglia, anche la risposta ad atti di barbarie come quelli compiuti da Massi il 7 ottobre. Ma non prevede il martirio di un popolo come risposta a un atto di barbarie. Non prevede che si risponda alla barbarie con la barbarie. Non ho mai capito perché non si è fatto questo lavoro. Molto semplice. Decidiamo di assumere come interlocutori quelli che accettano in linea di principio l'esistenza dello Stato di Israele e l'esistenza di uno Stato palestinese. Chi non accetta in linea di principio queste due esistenze non può essere un interlocutore. Se Hamas non accetta in linea di principio l'inviolabilità dello Stato di Israele deve essere cancellato dagli interlocutori ma se il governo di Israele, a cominciare da Netanyahu dice esplicitamente che l'idea dello Stato palestinese è un'idea inaccettabile che non ci sarà mai uno Stato palestinese e beh, a questo punto dobbiamo capirci chi è per la legalità internazionale e chi non lo è. Sarebbe stato bello fare l'elenco di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite violate da tutti gli interlocutori palestinesi e israeliani e applicare sanzioni a quelli che violano le risoluzioni dell'ONU. Questo lavoro non è stato fatto perché avremmo potuto scoprire che chi ha violato il 90% delle risoluzioni delle Nazioni Unite è lo Stato di Israele.